Si è tenuta ieri presso l'Ufficio Informa Giovani di Andrea la presentazione del catalogo corsi organizzati dall'ente di formazione professionale Safety Corporation di Andrea nell'ambito del programma Welfare to Work 2016 rivolto a disoccupati e casse integrati. I corsi sono completamente gratuiti e prevedono un'indenità oraria di 5 euro. Durante la mattinata si è parlato anche dei corsi inseriti nel programma ministeriale Garanzia Giovani rivolto a ragazzi con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni. Ai microfoni di Bat Magazine la dottoressa Maria Luisa Fiore responsabile dell'area formazione per la Safety Corporation a cui abbiamo chiesto ulteriori informazioni. Safety Corporation ha partecipato a questo programma regionale Welfare to Work 2016 con il proprio catalogo corsi. Offriamo appunto per i destinatari di questa misura, disoccupati, inoccupati e soggetti con mobilità e casse integrati, un catalogo corsi molto vasto che va dall'area informatica all'area marketing, comunicazione. Questo tipo di progetto dà la possibilità a questi destinatari di fare dei corsi gratuiti per poter ampliare il proprio background conoscitivo e il proprio portfolio professionale. Per quanto riguarda altre misure di questa topologia che vanno a vantaggio magari anche dei più giovani, che cosa propone il vostro ente? Sì, la Safety Corporation ha partecipato anche al programma Garanzia Giovani con l'ATS Great Girls ed è già da due anni che siamo attivi con questo tipo di programma. Il nostro ente di formazione è aperto ovviamente ad offrire a questi giovani corsi di formazione totalmente gratuiti e anche possibilità di attivare tirocini presso le nostre aziende partner. Quindi invito ovviamente chi fosse interessato a partecipare a questi nostri progetti a farci visita presso la nostra sede. I ragazzi cosa dovranno fare per usufruire di questi corsi? Allora, per quanto riguarda Garanzia Giovani devono innanzitutto iscriversi al programma tramite Sistema Puglia e possono ovviamente far riferimento anche a noi, a TS, per l'iscrizione. Successivamente saranno poi convocati dal centro per l'impiego e poi successivamente ancora possono scegliere liberamente di iscriversi alla nostra TS, in questo caso Great Girls e noi li seguiremo lungo il percorso e daremo a loro l'opportunità ovviamente di attivare corsi oppure di effettuare tirocini.